Con Mr. Leo, prima di questo derby con l'Ischia, innanzitutto ti chiedo l'emozione di affrontare quella che immagino per te sia anche la tua Ischia. Assolutamente, quella è casa mia. Sono stati degli anni che mi hanno consacrato come calciatore, quindi nutro chiaramente un affetto particolare. Sarà bellissima questa partita, questa esperienza. Dispiace soltanto che non ci potrà essere quella cornice di pubblico che comunque ha sempre fatto sì che ogni partita al Mazzella era veramente una gioia poterci entrare per poter giocare. La stiamo preparando sinceramente in maniera molto serena e tranquilla. È una partita tra virgolette anche storica perché l'ultimo derby si è, penso, giocato una quarantina di anni fa. Quindi ci teniamo sicuramente a fare bella figura. Andremo in campo con la giusta concentrazione, la giusta determinazione, cercando chiaramente di fare la nostra bella figura. Ci aspettiamo chiaramente un'ischia battagliera perché comunque punterà giustamente per l'organico che si ritrova, punterà a vincere il girone per poter poi ambire alla premozione in serie D. Quindi siamo abbastanza sereni, tranquilli, ma comunque, ripeto, il nostro obiettivo è assolutamente fare bella figura. In ultimo ti chiedo un bilancio di disponibili e indisponibili. Su chi potrai contare? Ma proprio per il fascino del derby sono quasi tutti a disposizione, tranne Muro che comunque è fermo già da una decina di giorni per un piccolo problema al ginocchio. Poi per quanto riguarda Chiaiese, vediamo oggi, anche perché è stato fermo per un paio di giorni, per una piccola forse contrattura, ma adesso valutiamo con il prof. Poi per quanto riguarda gli altri, forse l'unico, no, dimenticavo perché comunque Vittorio De Luise probabilmente non farà parte della gara. Però diciamo che chi lo sostituirà sicuramente sarà all'altezza della situazione. Che a Ischia ho trascosto i miei migliori anni calcistici. Mi fa strano preparare questa partita da ex. Ho dato tanto per i colori giallo-blu, ma adesso gioco con la squadra del mio paese e farò il possibile di onorare questo girone. Una partita, la prima, giocata qui al Calise contro l'Afro-Napoli. Ha visto un forio comunque voglioso che ci ha provato fino alla fine. Dal punto di vista tecnico e tattico, che partita ti aspetti al Mazzella? È una partita molto difficile. Giochiamo contro un'ischia ben organizzata, una squadra composta da ottimi elementi. Ma andiamo lì a fare la nostra partita. Sabato, ripeto, contro l'Afro-Napoli. Secondo me l'approccio c'è stato, però dobbiamo dare qualcosa in più iniziando da me fino all'ultimo ragazzo più giovane. Ripeto, io sono venuto qui per sposare questo progetto giovane, però ripeto, dobbiamo dare il massimo, iniziando che io che sono il più grande, fino al ragazzino e dobbiamo dare il 101%, sempre e ovunque.